E ora vi lasciamo ad un servizio perché siamo stati alla presentazione di Elegantè, il libro di Elena Campanile, che ha riunito più di 300 ospiti nella cornice veramente meravigliosa del Gran Caffè Gambrinus. Vediamo il servizio. Grande successo per la presentazione del libro di Elena Campanile, Elegantè, edito da Roggiosi al Gran Caffè Gambrinus di Napoli, evento che ha coinvolto oltre 300 persone, in una sala gremita di giovani appassionati del tè e lettori. Insieme all'autrice sono intervenuti Rosario Bianco, Roggiosi editore, Patrizio Podini, patrono di MD, Gennaro Coppola, produttore a Zorro Storie di Mare, di Rai Uno, e Gianni Puca, avvocato e scrittore. A moderare la serata è Enzo Agliardi, giornalista direttore di People in Italy, parterre d'eccezione per raccontare un libro ricco di storia ed eleganza. Ai nostri microfoni la scrittrice Elena Campanile. Elegantè, un'associazione dell'eleganza alla bevanda più elegante secondo me in assoluto. Le espressioni di tè giocano anche un po' sull'idea di tè come bevanda, ma anche di tè come persona, di tè ovviamente. E' esprimere se stessi anche attraverso una bevanda, la preparazione di una bevanda, che richiede gesti di grande eleganza, di attenzione. Credo che sia una possibilità per manifestare quotidianamente il nostro modo di essere eleganti.